Innanzitutto noi avremo un election day sulle primarie che sarà il 6 di marzo, si voterà dalle 8 alle 22 a Cascina, a Vecchiano, a Grosseto e poi si discuterà anche di primarie a Montevarchi e a Sesto Fiorentino. Insomma noi riteniamo sempre che le primarie siano lo strumento fondativo del nostro partito e a differenza del passato in cui le candidature venivano scelte all'interno delle stanze segrete dei partiti diamo la possibilità ai cittadini di poter scegliere il loro candidato, il candidato migliore. Per noi interessa anche poco chi vincerà le primarie, ci interessa soprattutto che ci sia una grande partecipazione e che i cittadini possano scegliere il candidato migliore e possa rappresentare meglio il Partito Democratico e il centro-sinistra.